Assolutamente al nome della città e dello sport. L'assessore Caramanno è un assessore attento e intelligente che segue queste iniziative con spirito collaborativo alto nei limiti delle sue umane possibilità. Credo che questa squadra ci dara ulteriori soddisfazioni e noi siamo grati e salutiamo con affetto le atlete della IOMI.